Mariani, quindi manca soltanto la rampa di Ticcola Lalla. La Lopez invece è su ingresso la grande. Si, ci rimasta molto longilineo e molto magra. Una giamme canale con una Danella, con grossi sbilanci della Palladina. Con numero 100, un pettorale, un clic smezzato, clic unito, salto teso, unito. Molto bella questa serie acrobatica, una serie artistica, cosa può aggiungere sul posto? Un giamme cambio con mezzo giro o Johnson con un quarto, sembrava più un Johnson con un quarto, vista l'apertura sulla frontale, una ribaltata senza mani e un salto montone che probabilmente dovevano essere collegate. Una caduta un po' banale, nel senso che la ruota senza l'ha fatta e purtroppo sull'arrivo poi non è stata ben intenuta col corpo e concentrata sul termine dell'elemento, il terminale dell'elemento, scusate. Esercizio un filino statico rispetto magari agli altri esercizi che abbiamo visto e ora si prepara per l'uscita. Un doppio avvitamento e mezzo che è un elemento di valore D, quindi...